Ciao da Sergio Colafiura, sono un vocal coach e in questo level 2 troverai tutte le cose che ti possono essere utili per migliorare la tua agilità vocale, l'intonazione, i passaggi tra registro di petto e registro di testa, la massa leggera e la qualità di mix. Quindi entreremo in quel meccanismo vocale, in tutte quelle parti meccaniche che andranno a bilanciare tutta la tua vocalità, andrai a velocizzare tutti i meccanismi che ti porteranno ad avere una flessibilità vocale maggiore, un miglioramento estensivo e più familiarità col tuo strumento. La parte della respirazione è stata dedicata nel level 1, quindi in questo caso non verrà ripetuta. Durante questo metodo avrai gli esempi fatti da me vocalmente, quindi potrai eseguire gli esercizi con me per tutta la scala, sia maschile che femminile, e avrai a disposizione diverse scale dove poterti allenare da solo senza la mia voce come supporto. Spero, ma sono sicuro che troverai beneficio da questo videocorso, un po' come è stato per il level 1, il vocal evolution che ha ottenuto le recensioni più alte della piattaforma Uedemy, e per qualsiasi cosa ricordati che puoi sempre contattarmi e mandarmi due feedback. Quindi non mi resta che dirti buon allenamento!